Ti piace questo torneo? Come ti trovi qua? Benissimo, l'organizzazione è fantastica, squadre molto importanti, li sto trovando molto bene. Come siete passati nel torneo di qualificazione? Siamo passati i primi, molto soddisfacente, giocando contro squadre di livello molto importante, di spessore internazionale. Sapete già chi affrontate domani? Sì, dovrebbe essere il Gang, una squadra molto forte, ha battuto la Juve quindi sarà una partita molto difficile. Abbiamo qualcosa da salutare? Sì, voglio salutare mia nonna Rita che mi so che mi guarda sempre. Io, mia mamma, mio papà e tutta la mia famiglia.